Amica mia, buongiorno! Ti sei già sistemata comoda per un altro tuffo nel mondo appassionante della promesa? Se pensavi che la confessione di Shimena a sua madre avesse dissipato ogni dubbio, beh, ti sbagliavi di grosso. Il capitolo 171. C riserva un vortice di inganni, riavvicinamenti inaspettati e segreti inconfessabili, che renderanno la nostra visione ancora più elettrizzante. Immergiamoci ancora una volta nelle turbolente acque della vita di Shimena con un cuore aperto e un orecchio attento. Come vi avevamo anticipato ieri, la nostra cara Shimena ha fatto una rivelazione sconvolgente a sua madre. Non è incinta. Questo segreto, pesante come una pietra, è finalmente venuto a galla, liberandoci tutti dai dubbi che ci opprimevano. E ora, lasciate che vi sveli cosa ci riserva il destino nel prossimo capitolo, ma prima, non dimenticate di iscrivervi al canale per seguire ogni nuovo sviluppo, perché la storia di Shimena sta per prendere una svolta inaspettata. E Martina rivelerà il suo lato più debole. Dopo aver confidato il falso stato di gravidanza, Shimena sembra una nave persa nella nebbia, disorientata ma necessaria per mantenere Manuel, l'amore della sua vita, al suo fianco. Questa menzogna, sebbene pesante, non ha attirato rimproveri dalla duchessa, sua madre. Anzi, è chiaro che entrambe sanno che devono navigare con cautela in queste acque travagliate. La loro strategia? Shimena dovrà avvicinarsi a Manuel con rinnovato affetto. La duchessa consiglia alla figlia di essere più affettuosa, di intessere ogni gesto e ogni parola con amore, quasi a rendere palpabile la gravidanza che hanno finto. Nel farlo, Shimena non solo cerca di salvaguardare il suo rapporto, ma anche di tessere una rete di sicurezza emotiva intorno a se stessa e a suo marito. Con il cuore in gola seguiamo Shimena in questa delicata danza di verità e finzione, che la coinvolgerà in una terribile sequenza di falsità. Shimena trova un manuale, la chiave per avvicinarsi ancora di più a Manuel. Giorno dopo giorno la loro vicinanza cresce e la tristezza iniziale lascia spazio a un legame che si rinforza sotto il cielo di una complicità sempre più profonda. Ma non è solo Shimena ad essere invischiata nella rete degli inganni. Alla villa le vicende prendono una piega inaspettata. Le cure amorevoli che Gianna dedica a Ramona la avvicinano sempre di più a Abel. La loro collaborazione professionale si trasforma in qualcosa di più profondo, tanto da portarli a trascorrere una notte inaspettatamente insieme. Tra i due nasce una complicità innegabile, che fa nascere in Iana dubbi e sentimenti nuovi, che la turbano e la confondono. Maria Fernandez, testimone e confidente di queste evoluzioni sentimentali, non può fare a meno di apprezzare le novità, mentre condivide sorpresa e complicità con i cuochi del palazzo. L'arrivo di Carlos al palazzo, con notizie che portano un barlume di riconciliazione con sua figlia, aggiunge un altro strato di gioia e complessità alla trama. Tuttavia, non tutto è sereno. L'ostilità persistente di un ex fidanzato diventa un nodo difficile da sciogliere. Il rifiuto di accettare aiuti finanziari per curare un occhio ferito e gli scatti d'ira sono contrastati dai tentativi di Pia di calmare gli animi, mentre Romulo, incapace di trattenersi, decide di confrontare l'uomo, etichettandolo come ingrato. In questo clima teso, una conversazione fraintesa tra Salvador e gli altri sottolinea il disagio crescente. Abel cerca di offrire conforto e rassicurazioni su un parto non ancora imminente, mentre vedremo Mauro lottare con le asperità della sua esistenza quotidiana, complicate da obblighi familiari e pressioni lavorative che non concedono tregua. Sotto l'ordine ferreo di Teresa, Mauro tenta una riconciliazione forzata con Feliciano. Tuttavia, il suo scarso entusiasmo e la palpabile ostilità rendono l'incontro più un campo di battaglia che un momento di pace, esasperando Feliciano che percepisce chiaramente la riluttanza del compagno. Questa tensione, tra i due, non fa altro che aggiungere altra legna al fuoco di una situazione già incandescente. Parallelamente, il peso del suo ambiente lavorativo si fa schiacciante. Ogni giorno, per Mauro, è una maratona contro il tempo, con scadenze che lo assediano e responsabilità che si accumulano come nuvole tempestose all'orizzonte. La pressione costante lo rende irascibile e insofferente, alterando il suo solito comportamento e influenzando negativamente le sue interazioni familiari. Questo clima di tensione continua a costruire muri all'interno della sua famiglia, dove le discussioni diventano sempre più frequenti e le risate sempre più rare. Ogni parola sembra essere il preludio di un altro conflitto. Ogni sguardo carica un messaggio non detto, rendendo l'atmosfera domestica tesa e carica di aspettative non soddisfatte. Le vicissitudini di Martina, un personaggio che, con ogni battito del cuore, sembra allontanarsi sempre più da coloro che una volta la circondavano. Come un foglio portato via dal vento, Martina si ritrova a navigare in acque turbolente, sole e confuse. Dopo una serie di decisioni impulsive e notti di eccessi, Martina si trova a confrontare le conseguenze delle sue azioni. La ragazza, avvolta nel mistero di dove sia stata e cosa abbia fatto, si chiude in se stessa, rifiutando di condividere la sua decisione finale con chiunque, Hannah, che con premura cerca di ottenere delle spiegazioni. In cerca di conforto si rivolge a lei, sperando di trovare un porto sicuro nella tempesta. Tuttavia, Hannah, esasperata e priva di pazienza, non ha consolazioni da offrire, lasciando Martina ancor più isolata e disperata. La situazione si complica ulteriormente quando tenta di evitare i suoi genitori, solo per essere rimproverata duramente da Abel, il quale, dopo averla esaminata, conferma che l'unico male da cui soffre è il risultato di una terribile ubriachezza e un atto sconsiderato che ha lasciato tutti sconcertati. Questo rimprovero non fa altro che aumentare il divario tra lei e i suoi genitori, Fernando e Margarita, che durante una visita le dimostrano quanto siano lontani non solo fisicamente, ma anche nei pensieri e nei sentimenti, esprimendo solo critiche ed elusioni. Questa intricata rete di malintesi e dolore promette di svelare ancora più drammi nel prossimo capitolo. Non perdere l'opportunità di scoprire come Martina gestirà questa crescente distanza con i suoi cari e quali nuovi sviluppi ci aspettano. Iscriviti per non perderti nulla e condividi i tuoi pensieri nei commenti. E ricorda, la domanda persiste. Se Ximena inizia ora una gravidanza, per quanti mesi la porterà avanti? Le risposte potrebbero sorprenderti. Amica mia, questo è solo un assaggio di ciò che ci attende nel prossimo episodio della Promesa. Come si evolverà la gravidanza inventata di Ximena? Quali segreti nasconde Martina? E che futuro attende Yana e Abel? Non perdere il prossimo appuntamento per scoprirlo. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nemmeno un minuto di questa storia avvincente. E ricorda di lasciare un commento qui sotto. Qual è il tuo personaggio preferito in questo momento? E cosa pensi che accadrà in futuro? Non vedo l'ora di leggere le tue opinioni. Inoltre, volevo condividere con te un mio pensiero. Penso che la bravura degli sceneggiatori della Promesa stia proprio nel saper creare personaggi.